Quello che solitamente vediamo nei nostri bar è l'utilizzo di questo bicchiere, ma noi non lo faremo qui. Continuiamo a prediligere un bicchiere come questo che aiuta proprio a sentire la bolla delle toniche. Andiamo a colmare anche in questo caso il nostro eyeball con del ghiaccio. Come sempre la dose giusta è 50 ml.